Ciao, sono Valerio Novar. Se in Harry Potter Voldemort non ci avesse inquietato così tanto, grazie anche all'interpretazione di Ralph Fiennes, probabilmente anche la pellicola, una delle più famose del mondo, non sarebbe diventata così famosa. E lo stesso succede in The Menu, un film che potete trovare su Disney+, che vede protagonista proprio Ralph Fiennes insieme all'attrice Anya Taylor-Joy, che è quella della regina degli scacchi, per capirci, e che sta diventando sempre più popolare nel panorama dei film e delle serie TV del momento. In questo film, tanti ci avete chiesto nei commenti, insomma, di spiegare un po' il finale, che è un po' la parte più misteriosa del film e diciamo subito che è un po' a interpretazione, ne parlavamo anche nelle nostre live dei giorni scorsi. È un thriller horror satirico, se vogliamo, e è un film che ho apprezzato, un film in cui entrambi i protagonisti giustamente candidati ai Golden Globe danno il meglio di sé, anche perché è un film che ti trasporta in una spirale di inquietudine che va a finire in un finale davvero pazzesco, degno dei migliori film di Quentin Tarantino. Ma andiamo con ordine. The Menu è una pellicola che prende spunto da un'esperienza vissuta dallo sceneggiatore, pensate, che è lo stesso di Succession, in cui lui, andando in vacanza a Bergen, su un'isola, in Norvegia, prende questo traghetto per andare su questa isola, da Bergen, per andare a cena in un ristorante stellato. La prima cosa in cui si accorge, insomma, appena arrivato sull'isola, è che la barca che li ha portati sul ristorante se ne va, insomma, li lascia lì, e il primo pensiero che gli viene in mente è ma dobbiamo stare quattro ore, insomma, qui su quest'isola, senza la possibilità di andare da nessuna parte. E quindi gli viene un po' di inquietudine e è la cosa predominante dell'inizio del film in cui si vedono due protagonisti, Anya Taylor-Joy e un altro ragazzo, insomma, una coppia. I due vanno insieme ad altre persone su quest'isola dove c'è un famoso ristorante di uno chef pluristellato che è interpretato da Ralph Fiennes e che deve servire una cena, una degustazione molto particolare ed esclusiva. Una cena gustosissima e si viene subito proiettati nell'eleganza, nella sparsosità di questa location magnifica. La prima cosa che ho notato guardando il film è proprio l'espressione che fa la protagonista Margot interpretata dalla Taylor-Joy che una volta arrivata sull'isola con questa nave, con questa barca, guarda la nave andare via e pensa subito, insomma, saremo costretti a stare isolati dal mondo e non ci sarà nessuna via di fuga, tra virgolette, se dovesse succedere qualcosa. E un po', insomma, l'ansia comincia a crescere mano a mano che il film va avanti. Devo dire che ho apprezzato tantissimo sia le interpretazioni sia il modo in cui il regista ti porta verso, insomma, lo svolgimento di questa cena e gli ospiti entrano dentro questo ristorante, dentro questa location magnifica fatta di tantissimi cuochi che aiutano lo chef a servire e a presentare dei piatti davvero particolari. Mano a mano, nella serata, però iniziano a succedere alcune cose molto strane e anche i commensali, insomma, si rendono conto che il vero obiettivo dello chef non è solo quello di servire una cena ma di vendicarsi, tra virgolette, di alcune cose che riguardano il suo passato. Il finale, dicevamo, sì, è vero che può essere molto interpretativo in base, insomma, alla vostra percezione del film e della cucina. Io, personalmente, trovo che sia un film che esplora prepotentemente la lotta di classe attraverso i piatti e la cucina e attraverso l'esperienza di uno chef che vuole farla pagare a tutte le persone che hanno, tra virgolette, messo a repentaglio la sua arte. Per lo chef di interpretazione di Ralph Fiennes è veramente inquietante. Infatti, cioè, l'ho trovato veramente quasi più spaventoso di Voldemort e nel corso della cena lui sembra molto tranquillo, molto pacato, i piatti vengono presentati. Il film è diviso in capitoli. Ogni piatto poi ha una spiegazione, una didascalia e sono le portate che poi scandiscono il ritmo del film. Una cosa che però non era prevista dallo chef, perché, insomma, ci sono tra gli ospiti della cena c'è una critica culinaria, c'è un famoso, famoso attore, cinematografico, ci sono tre ragazzi manager di un'azienda e a ognuno di loro lo chef vuole farla pagare perché in qualche modo ognuno di loro, attraverso il suo lavoro, ha messo, insomma, ha messo in cattiva luce lo chef e la sua arte culinaria, la sua cucina. Diciamo che una cosa inaspettata dallo chef è proprio la presenza di Margot che in realtà è un escort. Noi all'inizio non lo capiamo subito ma lei accompagna questo ragazzo che si era lasciato con la fidanzata. Lei non era prevista nella cena e lo chef invece conosceva benissimo tutti i suoi ospiti della serata e sapeva benissimo ognuno punti di forza e punti di debolezza. Il film, insomma, è un salendo di pathos e di ansia perché poi all'interno durante la serata cominciano ad accadere cose strane, cose che culmineranno in un finale drammatico e pazzesco in cui lo chef vuole servire dei marshmallow umani perché poi anche gli ospiti diventeranno parte dell'ultima portata è un film che va increscendo e che l'ultima portata verranno totalmente mascherati insomma e cosparsi di ingredienti per fare il marshmallow per fare un grande falò umano compreso di ristorante compreso di se stesso compreso della sua arte culinaria per diciamo purificare l'umanità e purificare tutte quelle persone che l'avevano denigrato che avevano messo in cattiva luce la sua arte però dicevamo il punto il focus che poi a un certo punto ti spiazza è che il comportamento di Margot della Taylor Joy spiazza completamente lo chef lei vediamo subito che è molto ribelle inizialmente chiede di andare in bagno fuma una sigaretta in bagno viene beccata facendo a fare questo insomma e durante la cena non mangia non mangia non le piace e lo dice chiaramente lo chef viene insomma preso alla sprovvista e a un certo punto una delle domande che ci si possono porre verso la fine è perché la protagonista chiede un banalissimo cheeseburger e lo chef rimane spiazzato anche perché lei era entrata nella demandanza insomma a prendere un bidone glielo aveva chiesto proprio lo chef e ha visto delle foto quindi scoprendo anche il passato di questo chef e della sua arte insomma quello che faceva da giovane che lo rendeva felice lei provocatoriamente quando torna gli chiede di prepararle un banalissimo cheeseburger un cheeseburger ben fatto e devo dire la scena del cheeseburger ti fa venire una voglia di mangiare un cheeseburger che è veramente pazzesca e quindi il finale in cui lui prepara il cheeseburger e lo serve tutto felice insomma a questa margot e la lascia andare via sta proprio a spiegare il fatto che lei lo ha sorpreso e ha scombussolato i suoi piani chiedendogli un piatto semplicissimo rispetto a tutti quelli che aveva preparato fino a quel momento per i suoi ospiti non era prevista nella cena e lei riesce a salvarsi perché chiedendo questo cheeseburger e mangiandolo sulla barca perché poi lei riesce a scappare a prendere una barca e quindi ad allontanarsi dall'isola e si gusta è proprio la scena culmine quando si gusta il cheeseburger sulla barca vedendo quello che stava succedendo e quindi quel falò umano nel ristorante è proprio lo smacco morale a quella classe perché lei nella sua semplicità anche il lavoro che fa insomma essendo un escort mangiandosi un cheeseburger su una barca l'unica che si salva è lo smacco morale della sparsosità insomma del lusso che invece sta prendendo fuoco a pochi chilometri da lei e quindi insomma è un finale che può essere molto interpretativo però insomma è l'apice della lotta di classe del classismo e del bruciare il capitalismo e tutto quello che ne deriva che era dentro il ristorante compreso poi il suo tra virgolette fidanzato accompagnatore insomma il ragazzo che sapeva benissimo fin dall'inizio come sarebbe finita la cena e ha deciso comunque di portarla con sé e sacrificare un innocente e infatti lo chef fa preparare al suo fidanzato dice tu hai fatto delle foto e i miei piatti non dovevi adesso dato che sei così bravo prepara qualcosa per gli ospiti e lui fa una figura di merda assurda e insomma e poi lo vediamo parlare all'orecchio con lo chef e allontanarsi lei è l'unica che riesce a salvarsi quindi diciamo questa scena culmina con questa scena con lei che mangia il panino che decise di portarselo via nemmeno di finirselo nel ristorante dando proprio uno smacco morale sia allo chef che ai suoi perfidi piani certo ci si può chiedere perché non ha fatto niente per salvarli perché è andata da sola insomma e perché ha lasciato che avvenisse poi quello che durante la cena c'era questa prospettiva insomma si ha la sensazione che debba succedere qualcosa di brutto a tutti quanti però non immagineresti mai insomma di vedere questo falò umano all'interno del ristorante in cui muoiono tutti ecco perché insomma ho fatto l'esempio di Quentin Tarantino e dei finali tarantiniani quindi insomma ditemi anche la vostra se avete visto il film e se vi è piaciuto io ho apprezzato le interpretazioni dei due protagonisti mi è piaciuto anche perché comunque è un film che non ti annoia e che si guarda volentieri ricordo che è su Disney Plus e io vi do appuntamento al prossimo video e vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube per non perdere tutti gli aggiornamenti sui film e le serie tv del momento mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e Instagram di Ciaccheazione alla prossima